Musica Ci troviamo al Museo Irtino, nel ex carcere borbonico di Avellino, in Irtinia, la terra dei lupi. Inauguriamo oggi la mostra Il Sospetto, una collettiva che include 70 opere d'arte di artisti internazionali, nazionali e anche campani. Molti di questi sono superstar nel sistema dell'arte contemporanea, altri sono emergenti. La mostra include pitture, sculture, videoarte, fotografie. Mostra che include artisti star, quali Marinella Senatore, Iva Lulasci, che dopo il Museo Irtino, dopo l'opening del Museo Irtino, inaugurerà la Biennale di Venezia e il Padiglione dell'Albania, piuttosto che tanti altri artisti, Ragnar Kjartan, Son, Niklas Goldbach, Keren Sitter, le cui opere sono al Boma, al Wittling Museum, al Palais di Tokyo. Ho voluto attirare l'attenzione del sistema dell'arte sul Museo Irtino e sull'Irpinia. Ritengo che l'Irpinia sia una terra vergine da conquistare in qualche modo. Mi sento un po' una pioniera, ma l'Irpinia risponde come? Il Museo Irtino è, dal punto di vista architettonico, prestigioso, lo staff super motivato e soprattutto il pubblico numeroso, attivo e vitale. e sappiamo perfettamente che è il pubblico che accende la mostra. Senza pubblico l'arte non impatta. Grazie. 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 Grazie.